Anche la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo è finalmente tornata a riaprire le porte ai visitatori, il tutto ovviamente in piena sicurezza. Siamo riuscite ad aprire subito, questa volta riprendendo tutte le norme che avevamo già adottato negli altri periodi di riapertura. Oltre ad una costante sanificazione degli ambienti, al termoscanner installato all'ingresso e alla predisposizione di percorsi unidirezionali, il Museo ha adottato anche ulteriori misure di sicurezza, come ad esempio l'innovativo braccialetto elettronico per il corretto distanziamento sociale. I Fidelitas Distance che sono questi piccoli orologi che segnalano quando una persona si avvicina troppo ad un'altra tramite una semplice vibrazione in modo tale che anche comunque l'avviso sia abbastanza cortese insomma. E poi un'ulteriore novità anche delle guide, delle audioguide che tramite un QR code possono essere scaricate nel proprio device in modo tale che con il proprio cellulare piuttosto che con un tablet è possibile avere un approfondimento della collezione. Con l'occasione riapre anche la mostra L'Oriente in Casa, un incontro dialogo tra la collezione Stilbert e l'eclettica raccolta di Bruschi. Abbiamo scelto quattro temi che sotto il titolo dell'Oriente in Casa denotano una particolarità del gusto di Stilbert. Il gusto moresco, l'egittomania come si diceva nel tempo, l'India misteriosa, il giapponismo. Abbiamo collezioni di oggetti che esprimono una linea di gusto, una linea di gusto molto importante che Stilbert riesce a rendere concreta collezionando in maniera quasi ossessiva tutti gli oggetti che poteva trovare sul mercato del tempo. L'Oriente in Casa è un percorso che può essere dedicato anche ai bambini. Esatto, il percorso si intitola proprio E se una mostra ti portasse in Oriente non ci possiamo muovere. Sappiamo che i grandi viaggi al momento sono assolutamente impossibili da fare. E quindi invitiamo tutti a venire qua per viaggiare, per andare in Egitto, per andare in Marocco, in India, in Cina, in Giappone. E quindi questo percorso vuol proprio raccontare ai più piccoli questi luoghi misteriosi.